Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale Stilografica Mente, il canale dove la mente si rivolge al bello. E oggi il bello prende le fattezze di questa bellissima signora in celluloide, la stipula Nettuno Superba del 1996. Devo ringraziare gli amici della Stilografica Milano per avermela prestata allo scopo di recensirla, questa proviene dalla loro bacheca storica che non è nient'altro che una collezione di un notaio loro amico che gli è stata affidata per comunque la vendita. Solitamente è un negozio che non fa vendita dell'usato, questa è una delle rare eccezioni perché conosce la provenienza di questa di questa collezione. Quindi l'esemplare che mi accingo a recensire è comunque in vendita, probabilmente io farò un'offerta al signor Antonio ma in ogni caso comunque lascerò il tempo a chi possa essere interessato eventualmente di accaparrarsela e quindi se proprio non mi aiutate a non spendere i soldi che gli proporrò vi sarò grato. Veniamo a parlare di questo bellissimo esemplare. Allora innanzitutto analizziamo le parti di questa meravigliosa penna, dopodiché faremo una carrellata storica di questo marchio, della storia che lega, che è correlata a questa penna, faremo una prova di scrittura e vedremo un po' i pro e contro che sono riuscito a individuare in questo magnifico esemplare. Allora, parti della penna. La penna è realizzata in celluloide, le finiture sono in metallo, come potete osservare non c'è differenza nel materiale, nella fantasia sulla sommità del cappuccio, così come sul fondello. È caratterizzata da queste rifiniture con anelli metallici, una clip che finisce diciamo un po' a cravatta, triplo anello e una veretta che si sposta con un motivetto a scacchiera, cesellato, doppio anello al di sotto del cappuccio, così come sulla manopola del fondello. Il sistema di caricamento è push knob filler. Push knob vuol dire che si svita il fondello, adesso non lo faccio per non agganciare la levetta interna, si svita il fondello e si preme. La pressione del fondello dopo averlo svitato, siccome aggancia una levetta interna metallica, questa levetta premendo comprime un sacchetto di silicone all'interno del fusto della penna e in questo modo si crea un vuoto, la penna espelle l'aria e poi risucchia l'inchiostro. La sezione è diciamo a clessidra ed è dello stesso materiale della penna. Il pennino è un pennino con l'impressione Nettuno ACV ed è un pennino a 14 carati fine, con anche un foro di sfiato che ha una leggera forma a cuore. Sì, a cuore. ACV sta per le iniziali della moglie del fondatore della Nettuno che è Ada Corazza Vecchietti. Questo esemplare, qui veniamo un po' alla nota storica che è correlata a questa penna, questo esemplare è una edizione limitata fatta da stipula nel 1996 in tributo alla Nettuno superba, originale, della Nettuno, azienda strettamente legata al negozio Vecchietti di Bologna. Questa è un'edizione limitata fatta in 911 esemplari. 911 sta a ricordare la data dichiarata di fondazione del 1911. Secondo Letizia Iacopini e il suo libro Storie della Stilografica Italiana, in realtà la registrazione della fondazione della Nettuno è avvenuta diverso tempo dopo. Ma in ogni caso, diciamo, 1911 collocherebbe la Nettuno, a pari merito con Tibaldi, diciamo in un arco temporale che la vede come le prime due marche italiane che producono, che hanno prodotto stilografiche appunto in Italia. Quindi comunque la Nettuno viene poi rilevata da firma nel 2001. Questo esemplare è evocativo, dicevo, della Nettuno superba del 1936, che diciamo è stato l'esemplare, se vogliamo, più significativo della produzione di Nettuno. E in quel caso parlavamo di un sistema di caricamento a button filler, quindi si svuotava, si svitava completamente il fondello, si estraeva il fondello e c'era un pulsante che premeva. Il principio non cambia, c'è sempre una levetta che sulla base della pressione del pulsante comprime il sacchetto interno e quindi poi risucchia, la penna risucchia l'inchiostro. Però, diciamo, differiva sia per il sistema di caricamento che per la clip che terminava in una sferetta, un po' come la sferetta della Pilot e qui c'era la scritta Nettuno. Queste erano le differenze sostanziali, poi per il resto, esemplare in celluloide verde marrone, che poi aggiungerei anche l'oro come riflesso, vedete che è bellissimo, comunque era realizzata nella stessa tipologia di celluloide, le proporzioni erano le stesse, così come le rifiniture. Dicevo, Nettuno fu acquistata da firma nel 2001 e dopodiché stipula, produsse gli ultimi esemplari della Nettuno, tra cui, diciamo, appunto questo che era un po' un tributo alle origini. Al giorno d'oggi abbiamo la Nettuno 1911 che è una linea di penne realizzate a Napoli da Maiora Pen e, diciamo, questa azienda è gestita dal cofondatore della originaria Delta. Bene, questo è l'esemplare 289 di 911 e vediamo un po' come si comporta su carta. Allora, dimenticavo, il cappuccio si svita in un giro e un quarto. Vediamo un po' come scrive. Continuità di flusso Allora, se non sollevo come ho fatto qui e qui, il flusso è continuo, quindi sono io che ho dato una discontinuità di flusso. Per quanto concerne l'erogazione, diciamo, dell'inchiostro è decisamente abbondante, non eccessiva, non è un idrante, però comunque è un pennino sicuramente bagnato. Allora, ho dimenticato di dirlo, sto scrivendo con Waterman Serenity Blue, un inchiostro blu lavabile che quindi rende la possibilità di una pulizia piuttosto semplice. Vediamo come si comporta in termini di variazione di tratto. Senza pressione, compressione e questo è il massimo a cui riesco a spingere la penna. Quindi un pennino tutto sommato piuttosto rigido al quale potete chiedere un minimo di saturazione in più di inchiostro sulla base della pressione che andate a imprimere. Per cui vedete che c'è anche una sfumatura di inchiostro proprio perché in alcune parti di questa di questa scritta ho premuto un po' di più. Ho premuto un po' di più. Quindi... Come vedete c'è differenza tra pressione e assenza di pressione. Quindi anche se non è un pennino flessibile potete tranquillamente divertirvi un po' con una variazione di tratto sostanziale. Va bene, è arrivato il momento della pagellina. Come sempre scrivo tutto e poi commentiamo alla fine. Allora, per quanto concerne il flusso 10 su 10 è un pennino molto ben impostato, bagnato, tendente al bagnato, per cui veramente un pennino piacevole con cui potersi divertire. La livrea è davvero elegante. Guardate quanto... quanto riflette e cattura la luce, per cui è veramente... adesso l'illuminazione non è delle migliori, ci tengo a sottolineare, però questa è una penna che soprattutto vi può regalare delle bellissime piacevoli sessioni di scrittura. manutenibilità, per me è un 6 su 10. Metto la sufficienza per quale motivo? Perché il sistema di caricamento presuppone che all'interno ci sia un sacchetto di gomma che nel tempo tende a, diciamo, fossilizzarsi, una sorta di fossilizzazione. La gomma si indurisce, si secca e si sgretola, per cui il sacchetto va sostituito, presumo, operando in questa sezione qui, che si dovrebbe poter smontare, estrarre e quindi poi andare a sostituire tutto il meccanismo della penna, quindi sia la levetta che può arrugginire, sia il sacchetto. È un sistema di caricamento un po' complicato. Poi per la pulizia della penna, anche per questo, metto un 6 su 10, perché non avete altro modo se non quello di aspirare ed espellere acqua pulita, perché altrimenti dovreste agire sul gruppo di scrittura rischiando comunque di piegare il, diciamo, le listelle di questo alimentatore e quindi è un po' rischioso andare a operare in questo senso. Quindi per pulizia e per manutenzione un po' più approfondita del sistema di caricamento prende un 6 su 10 se non un voto più basso. Dipende da come vi trovate. Le penne moderne hanno una maggiore facilità, diciamo, i sistemi di caricamento più diffusi tipo a pistone piuttosto che a cartucce, soprattutto quello, hanno una estrema facilità d'uso. Qui andiamo un po' a rievocare il vintage, comunque con un miglioramento rispetto al pulsante di fondo, perché il pulsante di fondo implica che voi dobbiate svitare il fondello, quindi vi rimane un pezzettino di celluloide in giro che potreste anche perdere. In questo caso è davvero un sistema built-in, perché tutta la penna rimane assemblata quando la caricate, dal mio punto di vista. Quindi è sicuramente una miglioria il push knob come sistema di caricamento, però ha le sue pecche. L'impugnabilità per me è un 10 su 10, perché comunque sia la penna è davvero molto comoda, non ha bisogno della calzatura del cappuccio, calzatura che è possibile però su un esemplare in celluloide, francamente, infatti ho usato molta cautela, non lo farei, ecco, se non strettamente necessario. A meno che non abbiate le mani che somigliano a delle pale, le mie che sono di media misura, medio grande, comunque riescono a impugnarla degnamente. È veramente comoda, molto leggera, ben bilanciata, per cui impugnabilità 10 su 10 come anche il bilanciamento, ok? Non sto a riscrivere il voto, scrivo bilanciamento, ci capiamo. Il rapporto qualità-prezzo. Allora, questo è sì un esemplare in vendita, direi al miglior offerente, essendo un esemplare in celluloide, piuttosto che comunque ben conservato, diciamo, del 1996, quindi comunque non proprio vintage, è evocativa del vintage. 96 siamo un po' liminali, ecco, è più tendente all'era moderna, però si conserva bene. Ha qualche problemuccio, di cui adesso parleremo, per cui le do un 7 su 10. Allora, quali sono i problemi? Vi ricordo che comunque questa è bacheca storica, quindi viene da una collezione privata, dipende molto da come è stata manutenuta dal precedente proprietario, infatti quando mi è arrivata nelle mani ho dovuto fare diversi cicli di pulizia per pulire bene il, diciamo, il sacchetto interno, perché comunque era pieno di inchiostro nero. Vabbè, sono cose normali, in un mercatino avreste lo stesso problema se non peggiore, perché comunque il pennino non l'ho lucidato, era proprio in queste condizioni. Le condizioni sono tendenti al buono. Quali sono i problemucci problemucci che ho individuato? Allora, non so se questa veretta era a scacchiera, che ha 20 caselle, era stata già pensata in maniera tale che si potesse ruotare. Lo do per buono, però, quindi che ci sia questo gioco, lo do per buono. Quello che penso non sia stato pensato in questi termini è questa mobilità degli anellini, di cui il superiore è fermo, l'inferiore no. Per cui, o la celluloide ha avuto un minimo di ritrazione, anche se devo dire che non c'è, non trovo fenomeni di viraggio del colore, piuttosto che di ridimensionamento che non stiano a farmi pensare a questa mobilità degli anellini, che potrebbe essere anche indicativa di come l'anello è stato stretto, magari troppo poco. Per cui, questa per me è l'unica pecca di questa penna, perché poi, per il resto, qui sul fondello gli anelli non si muovono, qui nemmeno, per cui tutto quello che riguarda il fusto della penna è davvero, davvero eccezionale. Gruppo scrittura tenuto fermo da un collare, non credo che si possa ruotare con una chiavetta, non lo so, anche se vedo queste due fessurine. Comunque l'esemplare è in ottime condizioni, nel senso considerato che è celluloide, considerato che non ha viraggi del colore, che scrive veramente, veramente bene, come degno di un pennino che potrebbe essere un pennino giapponese addirittura, non è questo il caso, chiaramente, però è un pennino in oro con il quale sicuramente potete avere delle sessioni di scrittura molto, molto interessanti. È un esemplare in edizione limitata, quindi se vogliamo un pennino in oro, sistema di caricamento non a cartucce ma a push knob, edizione limitata, celluloide, insomma, tutto questo insieme di cose è chiaro che fanno levitare il prezzo in una fascia medio alta. Poi sarete voi a decidere quale sarà la vostra offerta. Per poterla fare vi invito a contattare direttamente il negozio la stilografica Milano e a questo punto far valere, diciamo, la vostra posizione. Ve la vedete con me, nel senso che comunque farò un'offerta perché l'esemplare è davvero bello. L'ho tenuto per una settimana oramai e si è comportato veramente, veramente bene. Vi rimando comunque al video che ho girato, a parte per il caricamento di questa penna. Vi ringrazio, ringrazio innanzitutto il negozio della stilografica Milano per avermela affidata. Ancora una volta siete riusciti a tentare e solleticare il mio senso estetico. Ringrazio tutti voi per aver seguito questo video. Vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, magari cliccando sull'icona della campanellina e vi do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti stilograficamente parlando. Ciao!